L'ha sentito, non andavano neppure aperte queste discoteche e questa discussione non si sarebbe neppure dovuta fare. Facciamo rivedere però, così le diamo subito la parola, il ballo, il suo ballo che poi è diventato virale in questi giorni. Una bandiera della protesta. Io ho ballato quando il governo aveva deciso che ancora si poteva ballare. Sì, poi lei... Sì, poi lei... Sì, poi lei... Spieghiamolo bene... Perché ottengo la salute degli italiani. Poi lei ha... Sì, questo... Quindi non è come... No, il ballo l'ha fatto prima. Poi lei ha fatto un post in cui ha detto... Sì. In segno di disobbedienza civile, quasi fosse una... No, come il Mahatma Gandhi, in segno di disobbedienza civile, io continuerò a tenere aperto il mio locale. Questo lei mi pare ha detto in un post. No, ma non è così. Scusi. Però vediamolo, vediamo il ballo e andiamo a riprendere il suo post. Facciamo la prova del 9 rivedendo il suo post, non c'è problema. Prego. Sì, esatto. E' un po' di confusione. E' un po' di confusione. E' un po' di confusione. Sì. Eccolo qua. Eccolo qua. Bene. Allora. Vedo che Parenzo forse non ha studiato bene quello che c'è scritto. Io mi attengo a ciò che il governo ha deciso. Il governo ha deciso che le discoteche rimangono aperte e che è sospesa l'attività del ballo. Sì. Quindi tutte le discoteche d'Italia possono rimanere aperte con lo stesso orario, con tutti i protocolli che bisogna seguire, con la capienza ridotta. Ma il fatto che si dica che il governo ha deciso di chiudere le discoteche è una grandissima fake. Prima cosa. Seconda cosa, io non ci sto dal partito della salute o dal partito delle discoteche. Io sono per il partito della salute e per la tutela della salute di tutti i cittadini. Ma voglio dal governo delle linee guide certe. Perché io sono anche d'accordo col professor Galli. Era molto meglio non aprire. E' se c'era un problema. Io non mi metto a discutere con il medico, il clinico, il virologo. Perché nella vita faccio altro. Non lo so se c'è questa connessione tra le discoteche e il contagio. Non lo so. Non mi permetto di dire sì o di dire no. Perché non sono competente per farlo. Però ha detto anche che vietare il ballo è da tale bani. Se le scusi, poi mi taccio. Se decidevano di non aprire le discoteche. Benissimo. Molto meglio. Perché gli imprenditori, non il Twiga. Togliete il Twiga che non abbiamo quel problema. Ma le migliaia di imprenditori che hanno investito in personale, hanno affittato le case, hanno fatto tutti i lavori. E che poi, il giorno dopo, per agosto, si decida di chiudere. Secondo me, questa è una cosa che un governo segnale non sa. Scusi, onorevole Sant'Anche, una qualche, diciamo...